Buongiorno a tutti. L'opera che presentiamo oggi è un piccolo dipinto che raffigura un episodio di storia romana. Tito Livio racconta che nel 390 a.C., durante l'invasione dei Galli, le sacerdotesse del Tempio di Vesta dovettero fuggire da Roma mettendo in salvo le suppellettili del Tempio, tra cui il bracere con il fuoco sacro che non doveva mai spegnersi. Mentre si incamminavano a piedi verso Cere, si imbatterono in un plebeo, Lucio Albino, che fuggiva anche egli accompagnando la propria famiglia su un carro. Vedendo le sacerdotesse di Vesta in difficoltà, non esitò a mettere a disposizione il suo carro sacrificando la propria famiglia. Tito Livio citava questo episodio come esempio della innata pietas del popolo romano. I temi di storia antica tornarono di moda in età neoclassica e anche le storie delle Vestali furono rappresentate dagli artisti sia in pittura sia in scultura. Celebre in particolare l'erma di Vestale di Canova. Anche il teatro e la musica riscoprirono queste tematiche. Infatti una delle opere liriche di maggior successo di questa epoca fu proprio la Vestale di Gasparo Spontini, che fu rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1807. Il nostro dipinto risale a pochi anni prima. Fu infatti dipinto a Vienna nel 1803 dal pittore trentino Giovanni Battista Lampi. Lampi era famoso soprattutto come ritrattista, ma poiché ricopriva la cattedra di pittura di storia all'Accademia di Arti Figurative di Vienna, occasionalmente si cimentava con soggetti mitologici oppure di storia antica. Ed ecco perché decise di dipingere questo episodio tratto da Tito Livio, che corrisponde in pieno ai canoni dell'estetica neoclassica, secondo il motto, il celebre motto di Winkelmann, nobile semplicità e quieta grandezza. Le figure, che sono ben dodici, sono infatti raffigurate in grande armonia, le pose sono tutte variate, mai scomposte, la luce è molto morbida, la composizione è impostata sulle diagonali ma in modo dissimulato. All'epoca il dipinto conobbe un notevole successo. Venne infatti replicato dallo stesso Lampi in una tela oggi conservata al Museo del Belvedere di Vienna e venne riprodotto nel 1808 dall'incisore Michele Benedetti in una stampa. Inoltre due anni dopo, nel 1810, un pittore specializzato nella decorazione della porcellana, Leopold Lieb, lo riprodusse in un servizio da colazione di gran lusso, prodotto dalla manifattura di porcellana di Haugarten. Sarebbe però un errore considerare questo dipinto come un semplice saggio di bravura. Nel tema prescelto da Lampi, infatti, l'invasione di Roma da parte dei Galli, i contemporanei potevano facilmente cogliere un riferimento all'attualità delle guerre napoleoniche. I francesi invasori potevano infatti essere considerati i nuovi barbari che saccheggiavano le chiese e facevano bottino delle opere d'arte senza rispetto per la religione. Ecco dunque come un dipinto di storia antica, realizzato nel 1803, poteva caricarsi di un preciso messaggio politico. Grazie a tutti.